ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video io sono ivana oggi vi facciamo vedere l'ordine shogun di gennaio ecco qua marika prendi il primo prodotto vediamo cosa c'è allora abbiamo preso un detergente intimo all'olio di neem poi marika vediamo prendi l'olio del benessere vi volevo far vedere la nuova bottiglia praticamente aveva c'è sempre il contagocce e la bottiglia è così praticamente adesso è trasparente si vede il livello lo muovo così dell'olio all'interno mentre prima non non si vedeva niente e perché era completamente scura quindi marika poi che altro abbiamo preso abbiamo preso degli integratori come al solito al succo e polpa di aloe vera queste con bacche di goji e ne abbiamo presi tre perché bene o male in un mese due persone consumiamo tre flaconi poi sempre bene tenerne uno in scorta perché non si sa mai marika poi abbiamo preso un prodotto per lavare i pavimenti questo è floor washer questo è lavapavimenti senza risciacquo risciacquo flower sensation questi vi ricordo sono della linea professionale shogun hanno certificato hccp quindi possono essere usati anche nelle attività commerciali affetti al pubblico poi l'ultimo non è l'ultimo prodotto prendi marika ce la fai abbiamo preso un bagno lux sanitarie piastrelle anticalcare brillante brillante brillantissimo con questo possiamo pulire tutto il bagno avremo una brillantezza incredibile e ad anche un buon profumo vi ricordo che questi comunque sono prodotti concentrati quindi attenzione con le quantità poi abbiamo un'acqua micellare e vi dico la verità questa strucca deterge lenisce ma non è solo per struccare alla fine io vi dico la verità al mattino quando mi sveglio proprio non ho voglia ma devo comunque pulire il viso per poter mettere la crema passo un dischetto con un po di acqua micellare e sono a posto quindi poi che cosa abbiamo vediamo un po a ultimo prodotto abbiamo preso un profumo questo è lo 0 42 marika cosa fai mamma sei ferma 0 42 vediamo subito cosa corrisponde allora 0 42 è ispirato alla vie belle io ormai ricordo tutti stiamo finendo che c'è ricominci di nuovo dicevo ai numeri dei profumi li ricordo ormai quasi tutte a memoria però per non sbagliare sempre meglio leggere allora questo che cosa america nel nostro ordine ordine di gennaio cosa devono fare iscrivetevi al nostro canale youtube ormai abbiamo abbiamo totalizzato i 1000 iscritti evviva e quindi ci hanno attivato marika sei brava ci hanno attivato la chat quindi la community scusate da sei brava ci hanno attivato la community quindi di tanto in tanto potremmo mettere anche qualche post con delle recensioni qualcosa commentate mi raccomando allora mi raccomando iscrivetevi al canale youtube veniteci a trovare anche su facebook alla pagina riccioli ribelli family vi lasciamo nell'info box il link e niente vi saluto un bacio a tutti ciao 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 ciao